Luca Dorigo Luca Dorigo, età, altezza, fidanzata, vita privata e lavoro Luca Dorigo, quanti anni ha, quanto è alto, quanto pesa e che lavoro fa. Luca Dorigo è nato a Jesolo il 29 luglio del 1980. Ha 37 anni, è alto più di 180 centimetri e pesa 80 chili. Ha sempre vissuto con la sua famiglia e sua sorella e all'età di 21 anni si è diplomato come perito elettronico. Luca ha moltissime passioni. Tra le tante troviamo le moto ne possiede due, una Harley e una Ducati, andare in palestra, fare le immersioni e praticare snowboard e bodysurf. . Per quanto riguarda il lato lavorativo, sappiamo che prima di arrivare al successo ha svolto diversi lavori, come barman, lavapiatti e cameriere. . Il successo nel mondo dello spettacolo è arrivato nel 2005, quando ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. . Quella, però, è stata la prima volta, infatti, Dorigo è salito sul trono più famoso d'Italia una seconda volta, nel 2006, per cercare la sua anima gemella. . Luca Dorigo, vita privata dell'ex tronista di Uomini e Donne. . A 21 anni Luca si è trasferito negli Stati Uniti. Li ha conosciuto e sposato una donna più grande di lui di ben nove anni. Il matrimonio, però, è durato solo due anni. . Successivamente, ha avuto un'altra storia di un anno e mezzo, finita per un tradimento di lei. . Ha poi partecipato a Uomini e Donne, fidanzandosi con Amalia Rosetti. . Anche questa relazione è finita, ma per colpa di lui, che si è detto preso da altro. . Tra le sue conquiste ci sono anche Melita Tognolo, che l'ha tradito nella casa del grande fratello, e Georgette Polizzi. . Quest'ultima è una delle concorrenti di Temptation Island, fidanzata con Davide Tresse. . Dorigo è poi stato insieme a Valentina, che però lo ha lasciato dopo che lui ha posato per un calendario senza veli. . Luca Dorigo, carriera dell'extronista di Uomini e Donne. . . Dopo aver ottenuto il successo, Luca si è dedicato alla sua più grande passione, la musica. . Lavora, infatti, come di lunga in importanti locali italiani. . . In tv, invece, ha partecipato a diversi programmi, quelli che il calcio, 1-2-3 e Stalla. e Reality Game, oltre a recitare nel film Vodassio. . . Inoltre, ha posato per un calendario del 2018, quello dell'Elbois, in cui appare in copertina e in uno dei 12 mesi come mamma l'ha fatto. . . . . . . . Ciao